Il bagno è il legno che vedete su quelle due titate, perché quello determina lo standard E' un buon chiave da Queens E' un buon chiave in Australia E' un buon chiave e un buon lien con Samson E' un buon piano con questo E' un buon piano impeccato è fantastico, è ottimo per essere amplificato. Quindi la particolarità della loro chitaria è che hanno dei bassi molto definiti e le note le puoi sentire una d'una. Sono, diciamo, nel loro range, molto ben separate e definite. Tutte le note sul micro, c'è verità. Quindi non c'è una differenza di tono e di volume tra le note. Bene o male è tutto nivelato. E' differenza di volume, come io. Grazie a tutti.